La comunità floridiana si appresta a vivere la festività della patrona dal 27 novembre all'8 dicembre estilato un programma rispettoso delle norme anti-covid. Maria Santissima Immacolata ritorna viva nel cuore dei floridiani in un momento anche di ansia e di paura dovuto alla pandemia. Don Alessandro Genovese, che ormai da un anno guida la comunità, sollecita e fedeli a porsi come primi cristiani nel tempo del pericolo e delle persecuzioni. Ci rivolgiamo con filiale fiducia, dice in una lettera, la nostra cara madre di Dio e madre nostra, sotto la tua protezione e il desiderio di ritrovarci sotto il manto della Madonna per trovare nelle tempeste della vita il porto sicuro e il consolante rifugio. Floridia, dal 1877, si pregia di avere come patrona proprio Maria Santissima Immacolata, la tutta santa. Si celebrerà quindi l'annuale solennità dell'8 di dicembre con l'affidamento a lei pronunciato dal giovane sindaco Marco Carianni. Prevista anche l'accoglienza e la solenne concelebrazione eucharistica presieduta per la prima volta a Floridia da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo metropolita di Siracusa, lunedì 7 dicembre alle ore 18.30. L'appuntamento religioso sarà preceduto giorno 7 dalle 15 alle 17.30 da un pellegrinaggio personale dei ragazzi e delle loro famiglie. La processione dei scupidi quest'anno verrà vissuta singolarmente da Chiesa del Carmine alla Chiesa Madre dove a benedire e ad accogliere ci saranno i rispettivi parroci. La pandemia non fermi ciò che i nostri padri ci hanno consegnato come segno semplice di affidamento alla nostra mamma celeste, la bella Immacolata, conclude Don Alessandro.